Il professor Giacometti, primario nella divisione clinica malattie infettive degli ospedali riuniti di Ancona, ipotizza lo scenario dei contagi della variante Omicron. All'inizio della pandemia 10 milioni di italiani hanno già incontrato il virus ed è previsto che entro marzo si arriverà al 60%, cioè dal 20% attuale arriveremo al 60%. Io credo che entro l'anno saremo al 100%. Cioè vaccinati o non vaccinati tutti incontreremo veramente il virus. Il virus ovviamente è meglio incontrato da vaccinati piuttosto che da non vaccinati. Giacometti spiega quali possono essere i nuovi sintomi che colpiscono gli asintomatici che spesso non si accorgono di essere positivi al virus. Dottore, questa Omicron comunque sta contagiando praticamente tutti. Da questo punto di vista cosa possiamo dire al telespettatore? Perché obiettivamente ci saranno anche persone che l'avranno contratto senza rendersene conto. Sicuramente, il virus è mutato e dà una sintomatologia diversa a seconda delle persone. Ad alcuni non dà assolutamente nulla, è asintomatico quindi. Altri hanno una sintomatologia tipica del raffreddore, cioè il naso che cola, il naso chiuso, un po' di malessere. Altri non hanno nulla a livello delle vie respiratorie ma hanno magari una sindrome di eroica. Uno, due, tre giorni di tipo gastroenterite. Quindi probabilmente molti di noi lo contrarranno o l'avranno già contratto e neanche se ne sono accorti. Il primario guarda comunque in prospettiva con fiducia, spiegando che con il tempo il Covid si trasformerà in un raffreddore. Varianti nuove possono venire fuori non solo nei paesi in via di sviluppo ma anche nei paesi più industrializzati. Ma le varianti dovrebbero essere, parlando dal punto di vista statistico, dovrebbero essere ancora più diffusive, anche se non sarà facile essere più diffusivi di Omicron perché è tanto diffusiva. Ma sicuramente, o comunque ci speriamo tanto, saranno ancora meno pericolose. Cioè si adatteranno ancora di più alla nostra specie, per cui alla fine questo virus diventerà un virus di raffreddore, come i precedenti coronavirus. Grazie a tutti.